Nino Cioffi, esponente di un'antica famiglia sorrentina, nota per la produzione di gelato artigianale e titolare di un ristorante a Toronto in Canada, oggi su Lago Press Web TV con una proposta nuova e singolare. L'idea è quella di riunire tutte le attività ristorative di Sorrento, cercando di proporre un marchio e aprire dei vari ristoranti in tutte le città principali del mondo, utilizzando il nome Sorrento. Quindi ristoranti con marchio Sorrento internazionali per proporre cosa? Essendo a Toronto da circa due anni e tengo un ristorante che poi si chiama Sorrento, mi sono reso conto che comunque i turisti identificano in Sorrento un sintomo di ospitalità di eccellenza nella cucina e penso che sarebbe una grandissima occasione per noi per sfruttare questo nostro nome in giro per il mondo. Pensi ad un franchising? Onestamente no, vorremmo avere la possibilità di gestire tutto tra di noi da Sorrento utilizzando tutte persone, mano d'opera, cucina e camerieri direttamente locali, quindi senza affidarci a terzi. Quindi anche una grossa occasione occupazionale per tanti professionisti della cucina della penisola sorrentina? Certo, poi con l'eccellenza che abbiamo qui in penisola penso che sarebbe davvero una grande opportunità anche per noi. Mi farebbe piacere anche poi avere un supporto e un aiuto dalle istituzioni, anche perché poi il marchio Sorrento in giro per il mondo favorirebbe sicuramente anche di più l'economia locale. Un appello lo rivolgo ai miei colleghi ristoratori, vi prego di farvi sentire anche tramite l'associazione dei Slow Food dove magari potremo avere un incontro e eventualmente esaggiare se ci sono i presupposti per poter lanciare un'idea del genere. Va bene? Vi aspetto. Ciao. Grazie. 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 Grazie.